Zio. La vita è dura ma bisogna morderla come la verdura. Della vita non bisogna avere paura. Quindi ora prepara l'attrezzatura c'è un lavoro da fare per poi dopo mangiare. Noi muratori siamo dei campioni, lavoriamo 24 ore al giorno come leoni per poi prenderci le derisioni dai dei deficienti che sono nulla facenti. Noi stiamo aggrappati alla nostra ditta come alla vita senza quella la paga è smarrita. Zio la vita è dura ma bisogna morderla come la verdura. Della vita non bisogna avere paura quindi. Ora prepara l'attrezzatura c'è un lavoro da fare per poi dopo mangiare. Il lavoro va preso sul serio sempre. Se non lo fai alla fine sarai un demente. Senza lavoro non avrai futuro. Saranno giornate a pensare quanto ce l'hai duro. È inutile tralasciarlo facendo finta di niente. È come quando un ragazzino racconta bugie mente. Inutile mentire lo sai. Perché poi alla fine sarai tu nei guai. Vai e trovate un lavoretto umile per guadagnare con tanti. Non importa se lavorerai solo per pochi istanti. Zio la vita è dura ma bisogna morderla come la verdura. Della vita non bisogna avere paura. Quindi. Ora prepara l'attrezzatura. C'è un lavoro da fare per poi dopo mangiare. Io sono un uomo duro e lavoro in cantiere ma la cosa più faticosa è lavorare nelle miniere dove mi spacco la schiena per solo 20 euro al giorno. È inutile girarci attorno perché domani è un altro giorno. La vita è dura ma bisogna morderla come la verdura. Della vita non bisogna avere paura. Quindi. Ora prepara l'attrezzatura. C'è un lavoro da fare per poi dopo mangiare.